La magia del presepe vivente torna ad Oliveto nel comune di Civitella in Val di Chiana. Un viaggio all'interno del borgo medievale dove sarà possibile assistere alla rappresentazione della natività ma anche di mestieri antichi e di scene di vita quotidiana. Due gli appuntamenti in programma il 18 e il 26 dicembre. Anche a Castiglion Fiorentino per quest'anno torna il presepe vivente che festeggia 30 anni. L'appuntamento natalizio così per eccellenza raddoppia domenica 18 e lunedì 26 dicembre. Dalle ore 17 il centro storico si animerà con scene di vita quotidiana. Alla chiesa del calcinaio a Cortona arriva invece il presepe della pace, un allestimento curato dall'artista Antonio Massarutto che sarà ispirato alla tragedia della guerra. È invece iniziata domenica 4 dicembre la 25esima mostra concorso presepe alla Terina in provincia di Arezzo. Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, questa edizione inizia così con lo spirito natalizio più bello, quello della famiglia e della comunità che condivide passione e forza delle tradizioni. Cento i piccoli presepi all'interno di un presepe popolare vivente fatto di persone nel suggestivo borgo medievale. Una mostra online ed un concorso per premiare i migliori presepi realizzati nelle case, nelle scuole e nelle chiese e infine l'iniziativa delle Acli, un presepe al giorno.